Buongiorno a Carlo Regalcati, grazie di essere con noi. Allora, poi, piacere mio, grazie di essere con noi. Grande appuntamento domani, appuntamento storico, EuroCup, 19.30 in Germania, venite da un successo, possiamo dire, sofferto. Qual è, ci dica velocemente, la situazione e l'animo? Beh, innanzitutto, considerato appunto, partendo dal successo che abbiamo avuto, dobbiamo essere molto onesti, non stiamo attraversando un grandissimo momento. Però siamo all'inizio, quindi direi che l'inizio dell'EuroCup arriva a proposito, perché la squadra sta un pochino soffrendo il fatto di non riuscire ad esprimersi al 100% come vorrebbe e probabilmente entrare in una manifestazione così importante, così importante in assoluto e importante soprattutto per la Reier, che torna a livello internazionale dopo parecchi anni. E quindi è una manifestazione che ci dà grandi motivazioni. I giocatori sono giocatori esperti, molti di loro hanno fatto attività internazionale, quindi il fatto di giocare due volte alla settimana li potrebbe anche aiutare nel essere un pochino più fluidi nel nostro gioco, che è la cosa di cui assolutamente abbiamo bisogno.